...che hanno dei valori simbolici particolari e si vengono anche, o soprattutto, degli esterni. Quindi questa sala viene indicata in particolare come sala del Luca Cisci giusto perché sono state numerate, sono state invitate in diverse maniere. Non sappiamo come mi si è chiamata. A cosa doveva servire una sala come questa? Veramente non come abitazione. Per servire, per le scuole, le meraviglie del Conte Pirlo, piuttosto che del Milarese, piuttosto che di Unica. Magari avevano dei carico Americanici particolari, avevano delle viette preziose, oppure, e le facevano vedere.